Siamo con il presidente Giampiero Giacalone, uno 0-0 presidente che certamente lascia un po' di amaro in bocca anche perché la squadra, come ho detto allo stesso allenatore Giovanni Iacono, ha giocato ancora meglio dopo aver fallito addirittura il calcio di rigore. Questo approva che la squadra voleva vincere fortemente questa partita. Insomma, uno 0-0 che dal punto di vista di gioco è un risultato positivo per quello che si è visto, ma forse alla fine questi due punti mancano. Sì, avevamo detto già alla vigilia che incontravamo la squadra più in forma del campionato. Ricordo che il Favaro nelle prime cinque giornate credo avesse zero punti, una squadra quadrata in ogni reparto e malgrado ciò la Mazzarese non si è fatta mettere sotto, sul piano dell'intensità, sul piano del gioco, sul piano della voglia anche di onorare la maglia. L'amarezza è rituale in questa stagione. Purtroppo ci mancano molti punti perché abbiamo fallito appena appena se il rigore. Il tecnico Iacono ha detto che si prenderà lui, si tesserà lui per battere solo i calci di rigore. Lei che ne pensa? È una soluzione. Potrei anche decidere di tesserarmi io, vediamo un po' o fra me e il mister, ci ridiamo su. Il rigore è stato delato ovviamente benissimo, il portiere ha fatto una grande parata, però ovviamente per questa stagione saremo accompagnati da questo alone, nel senso che chi va dal dischetto sa la responsabilità che ha rispetto a tutti gli errori che nel passato ci hanno tolto più di dieci punti. Alla fine non c'è nulla da dire, nulla da rimproverarci. Abbiamo già la testa mercoledì, giochiamo in casa con la Parma e lì cercheremo di rifarci dei due punti persi questa giornata. Persi ripeto perché un episodio ci ha, al di là poi dell'episodio, il ricorrenetto o altro, se non ci fosse stato quell'episodio la partita finiva comodamente in serie a zero. Quell'episodio era l'episodio fra due squadre che si sono equivalse, era l'episodio che poteva rompere la partita. Noi l'abbiamo fallito e dobbiamo andare avanti e guardiamo sempre con grande attenzione la prestazione della squadra, guardiamo sempre con grande attenzione il blasone che la Mazzarese si è conquistato con questo tipo di prestazioni. Ricordo che abbiamo incontrato il Mesimere, abbiamo incontrato il Favara, incontreremo il Canicattì, l'Agragas, la Nissa, l'Enna, tutte squadre che hanno una storia nella categoria superiore. Quindi con un po' di amarezza perché abbiamo fallito i due punti in più e il rigore, con molto entusiasmo perché la squadra, una neopromossa, una matricola, non dimentichiamocelo mai, ha dimostrato di mettere sotto tutte le squadre della categoria. Esserete muti per noi è motivo di orgoglio.